Edo, ma hai comprato la roba per la scuola? Ma si mamma, ma c'è tempo Edo, ma anche un giorno! Ma mamma, basta che vado su Amazon.it E con Amazon Prime mi arriva tutto domani Cos'è no mi devo alzare Dai, vai, vai via che mi inizia trap Allora, le matite con tutte le punte diverse prese Un pacco così di gomme per tutto l'anno E cancellare preso Amici, amici, ma sono dimenticato i quadri Aspetta che ho il mio ordino subito Ah, cacchio, ma l'ho preso l'astuccio? No, no, cacchio No, no, i cacchio Mi sono dimenticato di comprare i libri Ah, meno male, posso comprarli su Amazon.it Dai, andiamo Guarda che ho comprato Una matita che scrive in 65 Colore e raffie diverse E poi questo quaderno che si trasforma anche in diario E poi c'è tipo tutte le formule del mondo Ma io sono un genio Ma, ma scusami Ma dove hai trovato tutta questa roba incredibile? Non te lo dirò mai, segreto protezionale Però poi ve lo dico Su Amazon.it Shhh, non lo dite Ma dove vai andare? guarda che faccio l'interNovi Grazie a tutti